Si è scatenato ovunque l'allarme da coronavirus, farmacie, sanitarie, supermercati presi d'assalto e attività culturali, visite e distruzioni stoppate fino al 15 marzo 2020. Tutto è immobile, tranne la regione Puglia che si sta occupando costantemente di verificare lo stato della comunità e mettere in atto misure che cautelino le persone senza fermarne la vita. C'è un sito regione.puglia.it slash coloramirus all'interno del quale ci sono tutte le disposizioni ministeriali, tutte le circolari regionali e una sezione dedicata alle domande più frequenti con le risposte anche descritte in modo elementare, tanto da far comprendere a tutti coloro che hanno un dubbio qual è il percorso da seguire nel caso in cui vogliano verificare la loro condizione di salute. A Bitonto sono oltre 200 le persone rientrate dalle regioni cosiddette a rischio, Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, e che hanno comunicato la loro presenza ai medici di base o all'ufficio igiene della nostra ASL. Tutti sono giovani, in età lavorativa, godono di buona salute e durante il triage non hanno presentato alcun sintomo preoccupante, ha detto il dottor Gaetano Bufano, presidente dei medici di base Bitontini. In questi giorni, inoltre, ci sarà la sanificazione degli ambienti e dei mezzi di trasporto, sia su gomma che su ferro, e dei luoghi pubblici. In ultimo, negli uffici della pubblica amministrazione e nei locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani. Procedere, soprattutto in questo periodo, a una maggiore azione di sanificazione dei luoghi pubblici potrebbe portare in via derivata alla limitazione del rischio di diffusione di qualsiasi tipo di virus, anche il corona. Non è certo il momento di fare facili allarmismi e basterebbe seguire le norme diffuse dal Ministero della Salute, lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con le persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani, coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce, non prendere farmaci antivirali né antibiotici salvo prescrizioni mediche, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. In ultimo, se si hanno dubbi sul proprio stato di salute, non bisogna arrecarsi al pronto soccorso ma chiamare prima il medico di base e se si pensa di essere stati contagiati chiamare il 112. Ricordiamo infine che è attivo il numero verde informativo sul coronavirus. Gli operatori del servizio rispondono tutti i giorni dalle 8 alle 22 al numero 800 713931.